SUPER FORZA! Cosa state facendo? Fingiamo di essere dei supereroi, bellezza! Eh, siete supereroi! Sì, ma ora stiamo fingendo di essere il buon supereroe, Corvina! Il miglior supereroe del mondo, Superman! Pensa che il suo nome è Super! E poi ha tutti quei superpoteri! Tutti noi abbiamo i poteri! No! Ma quelli di Superman sono forti, i nostri sono noiosi! Noiosi? Ti annoia essere un mezzo robot che si può trasformare in tutto? L'unica cosa che non posso diventare è un eroe interessante! Bibi, tu puoi diventare un dinosauro! Certo, certo! Ma per lo più sono un ciuchino! Già, va alla grande! Stella Rubia, emetti i raggi laser con le mani! No sì, i grossi! E tu, Robin? Hai dei capelli stupendi? Mai quanto Superman! Guarda quel ciuffo ribelle! Dai, siamo dei fantastici eroi e dovremmo amare i nostri poteri! Beh, non è così! Prenderei i poteri di un altro eroe in un batter d'occhio! Sul serio? L'aforia è pieno di eroi con poteri inutili, credetemi! Averli è meglio di niente! Corvina, potresti usare i tuoi incantesimi per darci i poteri del qualche altro supereroe? Sì, potrei! Ma prima di farlo... ...vi avverto! Sì, sì, sì! Attenti a ciò che desiderate! Ok! Forza, dacci nuovi poteri, sorella! Va bene! Azzer, Dmitri, anzita! No! No! Ha funzionato? Siamo identici a prima! Non volevate costumi nuovi, ma nuovi poteri! Ora che superpoteri ho? Ti ho dato quelli di acqua, Led! Puoi respirare sott'acqua e parlare coi pesci! Oh, ci picchia, che annoia! Provali e vediamo! Come va, pesce? Il mio nome è... José! Niente male! I pesci non hanno personalità! Come faccio a... Branchie? La vasca! Ho bisogno della vasca! E io, invece, posso volare, giusto? A te ho dato i poteri di Vyde. Puoi creare delle onde d'urto con la breakdance. Ma che fregatura! Ero già un waka waka grande breakdancer! Non il proprio! Non direi! Guardate qua! La mia zucca ha qualcosa che non va! È strapiena di pensieri e sensazioni! Sì, perché ti ho dato il potere di Saturn Girl! Ah, ma dai! Mi hai dato il potere di pensare! Sai che gli eroi con i poteri sensibili percepiscono sempre le trappole? E così non c'è più gusto! Posso almeno controllare le menti? No, solo pensare e sentire! No! Perché? Perché il mio corpo è l'ondeggiante! Ora i poteri di Plastic Man! Oh, l'elasticità! Ciao! Respinto! No, non mi piace l'ondeggiamento! Che barba! Abbiamo tutti i poteri inutili! Io no! Ho i poteri di Superman! Cosa? Allora è giusto! Perché sei l'unica fortunata? Beh, imparate a usare la magia e diventate Superman! Oh, mi dai il potere della magia al posto di quello mentale? No! Vivrete quei vostri inutili, nuovi poteri! Così forse apprezzerete di più quelli vecchi! Uso la mia vista termica per scaldarmi un burrito!